Bella a tutti ragazzi, io sono Andre e benvenuti in questo nuovo video di Rocket, siamo qui con Pierre Salute Buon bordo E niente, faremo una modalità, prima una modalità extra, poi se ci avanza del tempo faremo una modalità così a caso Alla fine ho dovuto prendere un'altra modalità perché la modalità che avevo scelto non caricava Quindi faremo una classica Così, vabbè, DG, DG per LDPG, Dark Polo Gang Aggiungiamo L Dark Polo Gang Perché se no non ha senso Oh, Gesù, Gesù, Gesù No, le parole Bisogna essere family friend, il Pierre, e allora, insomma Si è impallato il controller, va bene Non mi salta, non mi fa i doppi salti Cazzo, che bel nome, Chloe Pierre ti ricorda qualche cosa, Chloe? Vabbè, Dark Polo Gang tira A caso, va bene Dark Polo Gang di merda Ovviamente qua siamo tutti family friend Vedete ragazzi L'immagine profilo che ha È quello che deve fare Eh, non ho, non mi, non mi va il turbo Dio voglia Cioè, non mi va il tasso dietro Non mi va il tasso dietro Non mi metto la posta No, col cazzo, col cazzo Lo scaffo io lo uso Lo scaffo Lo scaffo Esatto, è quello che c'è Ma, Pierre, dove hai la testa? Io voglia Eh, sì, stai pensando Stai pensando, stai pensando Chissà che cosa, ragazzi Hashtag Pierre Pensa da non so quando Ma, hashtag Pierre Pensa, ovviamente No, no Ah, ok Cosa, porca Maria Povera Maria, cosa ti ha fatto? Ah, ragazzi ovviamente qua non è nessuno Qua, ragazzi Maria non è Spero che non ci sia nessuno Tra di noi Che si chiama Maria Perché È un problema grande e grosso Eh, Cleo Eh, Teo Eh Teo mammo cari Guaio Guaio Ciccione La Dark Polo Gang Si la legge I gol Sta Dark Polo Gang Cazzo salti Mongoloido Se tu sei maestro Io sono Leggenda Leggenda Oh È capace a fare qualcosa Attenzione Ah, God Non è riuscito a segnare No Perché ci sono io Guaio Questo qua ci si la Ma Guaio Questo qua non sa giocare Mi dispiace Ma sparati Guaio Ciccio Gamer Confirmed Chloe Hai sempre letto Seriamente Teo Ah no, ok Perché c'era un altro Teo No, perché c'era uno Che si chiama Teo Sorry Non è sorry È surri No Le parole Ecco Eh, ma io sono Gesù Quindi non esisto Aspetta No Fra ieri Stavo giocando La modalità L'altra Quella 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 Bella Figa Che tipo La palla Tocca per terra Esplode tutto Ecco E Tipo C'era il campo nemico Che era Le mani di Gesù Non sto scherzando Era Era completamente Bucato Che bel nome Cazzo Hashtag Justi Cassandra Ovviamente Perché è bellissimo Ragazzi Pazzesco 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 Patrimonio Di Ferrero Si Non lo sapevi Bene Ora lo sai Pierre Questo qua Ci vuole Io Perché ci voleva Stellare il gol Sto finocchio Gli ho fottuto io Nani GG Ah Chloé Penso Non so chi era Ah era te Ho provato a togliere la palla Che me l'ha messa a prendere davanti Vai LDP Bravo Grande Ragazzi qua Le persone sono fortissime Sparati Iscrivo sparati L'ho fatto saltare in aria la palla Oh buchi da mamma Che cazzo mi fai volare Cazzo è ninda coolen Uè Teo Te l'ho da mucari Ok Anche se abbiamo vinto Ma va bene Non so che rumore tu senta Eh però Ma 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 Una bambina cazzo Una bambina che piange Porco di ma Pier cazzo spingi Mongoloide Ma è difficilissimo fare gol Oh in questo caso canestro Oh bocchino a mamma Ti cazzo spingi Deficiente Oh shit Oh shit Sono Gesù Io volo Sos Ah ma noi possiamo entrare Nella zona No 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 la taglio direttamente Come tiro in porta Ero me la dato Eh mi sono bloccato E cheat Sono fortissimo In questa modalità Sos Ah no È la tua preferita Sos O almeno Quello che crediamo Ah God Pierre non può entrare Da sotto Devi saper volare In questa modalità Per quanto tempo Dovremmo andare avanti Il problema è che Se in due minuti Non abbiamo fatto Ancora un gol È un problema No Sono per fare un altro gol Volei Via cinese Ho capito il trucco migliore Pier Hashtag Pier È un callo Ovviamente Pier Pacallo Sei Gesù Cristo Quindi non esisti Realmente Perché Ragazzi Pier ha problemi In amore Non è colpa nostra Ovviamente Anche mentali Ovviamente Ma quelle sono Discriminazioni Penso che Il suo obiettivo È metterla Perché Sennò Qua la partita Non finisce Oh I sopplementari Boia Hai rigori? Mattirazzi Fu ferito Fu ferito Ah no Quella Garibaldi E niente Ci hanno fatto gol Come non lo so Ah ok Pensavo Devo L'ha toccata io Invece L'ha toccata lui Vabbè Non ci possiamo fare niente E neanche so farlo Quello che hai fatto Teppolo online Sai Bravo bravo Ragazzi Per questo video È tutto Bella